E questo a sorpresa è il carpet di Office 3D di Johnny To, che insomma era molto atteso, racconta di una società miliardaria, la Jones & Sun, che sta per diventare pubblica. Il presidente ha promesso all'amministratore delegato, suo amante da più di vent'anni, che diventerà la maggiore azionista, ma il progetto provoca reazioni inaspettate chiaramente all'interno del gruppo. Nel mondo del mercato l'intrigo regna sovrano.